Il comune di Guardiagrele torna a far parlare di sé per il numero dei casi covid, c'è stata un'impennata di contagi, ad oggi sono 55 i casi positivi in questo comune, ma non bisogna fare allarmismo perché sono stati presi già provvedimenti. Sindaco Donatello Di Prinzio. Abbiamo avuto questo impennato negli ultimi 15 giorni, stavamo facendo il countdown all'inverso perché abbiamo arrivato soltanto a sei casi positivi, purtroppo c'è stata questa impennata, impennata che è coincisa con la riapertura ma non è di peso dalla riapertura, i fattori sono diversi, ambienti di lavoro o forse atteggiamenti familiari, qualche festa in più che forse si poteva evitare hanno creato questo aumento di contagi. Abbiamo fatto delle azioni per cercare di controllare dapprima subito dalle scuole, dove sono i nostri ragazzi, abbiamo fatto i tamponi rapidi a tutte le scuole dell'obbligo di Guardiagrele e fortunatamente il risultato è stato ottimo perché non ci sono stati casi positivi se non qualche adulto, quindi non i ragazzi. Con la ASL lunedì abbiamo ricevuto l'ok per fare uno screening campione con tamponi molecolari che abbiamo svolto ieri pomeriggio grazie al 118 e alla collaborazione della Croce Rossa Italiana di Guardiagrele. Abbiamo fatto circa 300 tamponi molecolari e aspettiamo il risultato. La mia sensazione è che comunque sia stato un caso in questi 15 giorni e si sia già calmato il contagio perché la ASL ha messo subito in atto tutte le quarantene e le procedure per contenere i contagi. Quindi sono fiducioso e spero in una riapertura intelligente da parte di tutti per cercare di rinunciare una vita tranquilla anche noi nella nostra città che già abbiamo avuto un brutto periodo a gennaio, poi abbiamo fatto grossi sacrifici per ritirarci su e penso che riusciremo anche in questo caso a tirarci su.